Nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio a Mati, i carabinieri hanno denunciato per ricettazione un artigiano edile di 42 anni abitante a Cerie. La perquisizione a casa ha permesso di sequestrare numerosi elettrotensili per l'edilizia, decespugliatori, tagliaerba, soffiatori. Il valore commerciale della merce rubata è di circa 25.000 euro. Il materiale sequestrato è custodito nella caserma di Mati in attesa di identificare i proprietari.